Martedì mattina di allenamenti per i ragazzi di Andrea Stramacioni che sono ritrovati sul campo 1 e 2 del centro sportivo Dino Bruseschi per lavorare su atletica, su fisica e sulla palla in vista di quello che sarà il prossimo appuntamento, quello contro il Torino. È una mattinata inevitabilmente di grande concentrazione perché non può essere altrimenti. Questa sera la squadra partirà per quello che è il suo ritiro, partirà per quello che è un momento di grande concentrazione, di grande voglia e di grande volontà di invertire un trend sicuramente non positivo che è culminato con la sconfitta in quella di Cesena, una sconfitta amara da cui assolutamente si vuole uscire il prima possibile. Ecco perché si lavora qui con alcune anche individualità che hanno svolto lavoro personalizzato. Parliamo di Totò di Natale che ha svolto lavoro con il preparatore Paolo Artico, parliamo anche di altri tre elementi del gruppo bianconero, vale a dire Siril Terò, Allan e Lucas Evangelista che hanno svolto una sessione di corso. Ovviamente non c'è alcun tipo di allarme per questi tre elementi visto che siamo davvero nella primissima parte di settimana, di solito il martedì è il giorno di ripresa, per questa settimana invece è stato deciso di iniziare da subito il lavoro, di iniziare lunedì annullando il giorno di riposo proprio per quella che è stata la brutta prestazione con il Cesena. Ecco perché i ragazzi stanno dando tutto, stanno dando quello che serve per trovare la giusta concentrazione, la giusta volontà, la giusta carica per ritrovarsi contro un'avversaria difficile come il Torino, un'avversaria che è invece in salute, un'avversaria che sicuramente arriverà al Friuli vogliosa di fare una buona partita, ma lo stesso deve fare l'Udinese anche perché la vittoria al Friuli manca da troppo tempo, la vittoria in senso assoluto manca da troppo tempo. Ci sono un sacco di fattori che spingono la formazione di Andrea Stramaccioni a ritrovare i tre punti, a ritrovare punti preziosi per continuare quello che è il cammino in classifica. Mentre la squadra suda, fatica e lavora sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi va avanti, procede anche quello che è il lavoro qui allo Stadio Friuli, qui nel cantiere, possiamo definirlo in modo non diverso da questo che lo Stadio Friuli. Di fronte a noi c'è quello che è il momento maggiore dei lavori, vale a dire il momento del rinnovamento della Curva Sud, o meglio dire della demolizione della Curva Sud, ruspe al lavoro già da diverse ore, già da diversi giorni. Adesso il colpo d'occhio è decisamente significativo, quelli che erano settori che erano stati smantellati, è sparito il maxischermo, sono spariti i seggiolini e adesso sta proprio sparendo in senso assoluto la Curva, pronta a ricostruirsi così come si è ricostruito anche il resto dello stadio. Un colpo d'occhio decisamente importante, ripeto, per quello che è l'ultimo settore che deve affrontare questo rinnovamento, visto che come noto l'arco non subirà variazioni, variazioni che invece continuiamo a vedere nel resto dello stadio. Anche sull'altro fronte, quello della Curva Nord, c'è una porzione ulteriore che si sta aggiungendo di copertura, quasi completata davvero quella che è anche la struttura della copertura, tanti bracci meccanici al lavoro, tante gru che continuano quotidianamente a far crescere il gioiello che ospiterà tutte le gare interne dell'Udinese Calcio. Sicuramente è bello vedere il progresso di questi lavori che ci porteranno entro fine anno a raggiungere l'obiettivo tanto agognato in attesa poi di tornare domenica a disputare una gara ufficiale in casa contro il Torino.